Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Ebrei, capitolo 11, versetto 1 La fede è tutto quello che abbiamo. Dopo mesi che non cadeva una vera pioggia, mentre le settimane si succedevano sempre più infocate, la gente di un piccolo paese era tese e nervosa. I campi erano aridi, l'erba era sparita dai prati e le foglie ingiallite pendevano penosamente dai rami. Per implorare la grazia della pioggia, il pastore organizzò un'ora speciale di preghiera nella piazza davanti alla chiesa. Allora stabilita, la piazza era gremita di persone che rendevano testimonianza della loro fede. Il pastore del paese guardava ammirato le Bibbie nelle mani dei fedeli, ma non riusciva a distogliere gli occhi da una bambina seduta in prima fila. Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso. Vivere la fede con perseveranza significa credere in Dio senza dubitare e sperare che possa succedere qualcosa di straordinario, nonostante tutto. Il Signore ricompensa tutti quelli che agiscono in obbedienza alla Sua volontà. Quando compi un passo di fede possono accadere cose incredibili.